Una dirigenza in una istituzione come la Regione la fa la Corte dei Conti, noi la stiamo facendo invece con un'operazione Verità sui Conti 2017 per poter informare il Presidente e l'Aggiunta del Parlamento della situazione economico-finanziaria. Lo ha detto l'Assessore regionale dell'Economia e Vicepresidente della Regione Sicilia, Gaetano Armao, a margine di un incontro in Sicindustria sulle inefficienze della burocrazia. Bisogna partire dalla gravissima omissione della mancata adozione del bilancio consolidato al 30 settembre, ha spiegato Armao, che ha fatto in modo che scattasse la sanzione con il blocco di tutti i rapporti negoziali condipendenti a tempo determinato, con effetti evidenti su una Regione che a partire dai forestali adotta lo strumento del contratto esterno. Domani ho un appuntamento con il ragioniere generale dello Stato per trovare una soluzione tecnica da offrire alla Regione e al Governo nazionale. E ancora, dice Armao, la Regione sta lavorando allo snellimento della burocrazia. È uno dei punti del nostro programma come la riduzione dei tempi dei pagamenti alle imprese. Vogliamo adottare queste misure immediatamente? La soluzione tecnica, ha proseguito l'Assessore all'Economia, la adotterà la Giunta con un disegno di legge che intervenga sulla delegificazione o con un intervento legislativo che metta mano all'attuale impianto normativo che risale al 2011 e che sconte i ritardi di una Regione che ha omesso di adeguarsi ai principi della riforma della pubblica amministrazione statale. Intanto, Rosario Crocetta non ci sta, difende la nomina di Patrizia Monterosso al vertice della burocrazia regionale e prova a smontare la tesi della Procura della Corte dei Conti, secondo cui non fu fatta una verifica sulla necessità di assumere dall'esterno il segretario generale di Palazzo d'Orleans. Il Presidente esordisce dicendo di aver appreso dalla stampa la notizia dell'inchiesta della magistratura contabile, poi entra nel merito. La selezione della Monterosso è stata effettuata dagli uffici tecnici della Regione mediante la comparazione dei suoi titoli con quelli di tutti i dirigenti dell'amministrazione regionale. Da tale comparazione risulta chiaramente il possesso di tutti i requisiti per la nomina in misura maggiore rispetto ad altri dirigenti. L'ex Presidente cita un altro aspetto che a suo modo di vedere lo scagiona dall'accusa. La Giunta regionale ha la possibilità di assumere dirigenti esterni e il mio Governo non ha mai superato il limite previsto dalla legge. Forniremo dunque alla Corte dei Conti, quando ce ne sarà fatta formale richiesta, la documentazione necessaria a fare chiarezza. Infine, Crocetta difende ancora una volta la Monterosso. Sul piano più generale mi sembra semplicistico affermare che ci sia stato un danno dal momento che la Monterosso ha lavorato con impegno, facendo risparmiare con la sua attenta gestione notevoli risorse al bilancio regionale. Grazie. 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 Grazie.